Questo esercizio, tratto dal Walker, un libro di testo per il liceo, ci permetterà di ripassare la legge di Stefan Boltzmann, anzi approfondirla un po'. Leggiamo la prima richiesta. La superficie del Sole ha una temperatura di 5500 gradi centigradi. Considerando il Sole come un perfetto corpo nero, con un'emittività uguale a 1, calcola la potenza che irradia nello spazio. Il raggio del Sole è 7,0 per 10 all'ottava metri, mentre la temperatura dello spazio può essere considerata uguale a 3 Kelvin. Dunque, qui stiamo parlando di un oggetto che può essere considerato un perfetto corpo nero, al quale si applica la legge di Stefan Boltzmann. Vi ricordo le grandezze che caratterizzano un corpo nero. Ad esempio, noi possiamo definire di un oggetto che irraggia il flusso totale raggiante, che possiamo anche chiamare potenza totale emessa. Si usa il termine totale per indicare che è emessa da tutta la superficie del corpo e a tutte le lunghezze d'onda. Se però dividiamo il flusso raggiante, cioè la potenza totale emessa, fratto la superficie di emissione, la superficie del corpo, quello che otteniamo sono i Watt a metro quadro emessi, cioè quanti Watt vengono emessi dall'unità di superficie di quel corpo. E questa si chiama intensità di irraggiamento. Ed è questa la grandezza che rientra nella legge di Stefan Boltzmann, che afferma appunto che l'intensità di irraggiamento, cioè la potenza per unità di superficie, è direttamente proporzionale attraverso una costante, che prende il nome di costante di Stefan Boltzmann, alla quarta potenza della temperatura assoluta del corpo. Attenzione, temperatura assoluta, non temperatura in gradi centili. Qui però si parla di emittività, dunque di una forma un po' più elaborata della legge di Stefan Boltzmann. Vi faccio dunque vedere qual è una versione più completa della legge di Stefan Boltzmann. Eccola qua. In questo caso la legge viene espressa in questo modo. Pi rappresenta la potenza totale emessa. Sigma è la costante di Stefan Boltzmann. T alla quarta lo riconosciamo. A rappresenta l'area di emissione. Quindi è chiaro che se io divido la potenza totale emessa, diviso l'area di emissione, quello che ottengo, come abbiamo detto, è l'intensità di irraggiamento. Dunque solo un modo diverso di scrivere la legge di Stefan Boltzmann. Che comunque in questo caso avrebbe ancora la comparsa di questa costante E di cui dobbiamo parlare. Due parole anche sulla costante di Stefan Boltzmann. Sigma è una delle costanti più facili da ricordare. Infatti se leggete le sue cifre sono esattamente in ordine 5, 6, 7, 8. Quindi 5,67 per 10 alla meno 8. Che cosa? Considerando che è, come vedremo, una costante adimensionale, sigma moltiplicata T alla quarta deve dare dei watt su metro quadro. Quindi l'unità di misura di sigma sarà il watt su metro quadro e sempre fratto Kelvin alla quarta perché deve semplificare i Kelvin alla quarta portati dal T alla quarta nella quarta. Che cos'è E? Come viene riportato in questo paragrafo è il cosiddetto coefficiente di emissione o emittività. Cioè una costante adimensionale che può assumere valori compresi fra 0 e 1. Quindi E può essere compresa fra 0 e 1. E indica in un certo senso l'efficienza del corpo nell'irradiare dell'energia. Quindi ha un valore 1 quando il corpo è un perfetto radiatore, cioè il corpo nero. Ecco perché nello studio del corpo nero, nella legge di Stefan Boltzmann, noi non usavamo mai E perché praticamente nel corpo nero E vale 1. Invece un oggetto che abbia una emittività vicino a 0 è un pessimo radiatore. Quindi nel caso del corpo nero, come in questo caso, E può essere assunto uguale a 1. Dunque, ritornando al nostro problema, dobbiamo determinare la potenza che il Sole radia nello spazio. Abbiamo visto qua che la potenza si ottiene, la potenza totale, si ottiene moltiplicando la potenza per unità di superficie, cioè l'intensità di arrangiamento, per l'area della superficie. E a sua volta l'intensità di arrangiamento è pari ad E per sigma per T alla quarta, dove E però nel caso del corpo nero varrà 1, e poi l'area, l'area della superficie del Sole, come l'area di qualunque sfera, è 4π per il raggio del Sole elevato al quadrato. Con questi dati dovremmo essere in grado di calcolare la potenza totale emessa dal Sole, facendo attenzione ancora ad un fatto che la temperatura deve essere espressa in Kelvin. Quindi, seppure non molto influente, dobbiamo però esprimere questa temperatura in Kelvin, quindi aggiungere 273 e quindi diventa 5.773 Kelvin. Non è così rilevante, però è significativo dal punto di vista della precisione. Dunque, andiamo a sostituire e calcoliamo. Abbiamo detto che E vale 1, sigma vale 5,67 per 10 alla meno 8, si diceva Watt su metro quadro, moltiplicato per Kelvin alla quarta. T alla quarta è 5.773 Kelvin, tutto elevato alla quarta. moltiplicato poi 4π, il raggio del Sole ci viene fornito come 7,0 per 10 all'ottava metri, il tutto al quadrato. Ovviamente qua ci sono, diciamo, dei problemi sulle cifre significative, nel senso che alcuni valori sono sicuramente dati con un numero di cifre significative ponderato, mentre ad esempio 5.773 ha troppe cifre significative, ma alla fine terremo comunque due, tre cifre significative, come si fa quando il calcolo, diciamo, è da svolgere senza una precisa valutazione dell'errore. Dunque adesso svolgiamo il calcolo e poi ci ritroviamo per la soluzione. Il calcolo fornisce questo risultato, 3,88 per 10 alla ventiseiesima. Che cosa? Beh, intanto i Kelvin si sono semplificati, i metri quadri sono semplificati, rimangono Watt, cioè Joule al secondo. Questo vuol dire che in ogni secondo il Sole emette complessivamente in tutte le direzioni, 3,88 per 10 alla 26 Watt, considerando l'energia emessa a tutte le lunghezze d'onda. Veniamo ora alla seconda parte dell'esercizio. La costante solare è definita come il numero di Watt di potenza proveniente dal Sole che cadono su un metro quadrato dell'atmosfera terrestre. Usa il valore calcolato nel punto precedente per determinare la costante solare, sapendo che la distanza Sole-Terra è 1,5 per 10 all'undicesima metri, cioè 150 milioni di chilometri. Qui si parla di nuovo di Watt che cadono su un metro quadro, però bisogna fare attenzione alla diversa grandezza di cui stiamo parlando. Prima abbiamo parlato di intensità di irraggiamento Watt a metro quadro emessi da una superficie. Quindi l'intensità di irraggiamento, che interviene nella legge di Stefan Boltzmann, è una grandezza che definisce la capacità di emissione, di irraggiare di una superficie. Qui invece stiamo parlando di numero di Watt che cadono su un metro quadro. Quindi qui stiamo parlando di una superficie di un metro quadro che viene investita da una radiazione. Questo è quello che si chiamerebbe propriamente un irradiamento, quello che il nostro libro di testo indicava con il simbolo E maiuscolo, con una piccola E minuscola come indice. Quindi pur essendo anche questa una grandezza misurata in Watt a metro quadro, non si riferisce alla sorgente e al fenomeno dell'emissione, ma si riferisce a ciò che è esposto alla radiazione e quindi è un fenomeno di assorbimento. Chiarito questo punto, veniamo alla spiegazione di questa seconda parte. Beh, facciamo questo ragionamento. Il Sole può essere considerato come un puntino, una sorgente puntiforme, che emette la sua radiazione in tutte le direzioni. La potenza, l'abbiamo stimata, è dell'ordine di 10 alla 26 Watt. Se io vado a raccogliere questa radiazione ad una certa distanza, quindi ad esempio ad un certo raggio, diciamo la distanza di Mercurio dal Sole, questa potenza, questi Watt, si distribuiscono su una superficie relativamente piccola di 4πR alla seconda e quindi, diciamo, ogni metro quadro di questa sfera, che raccoglie tutta la radiazione solare, riceve una buona quantità di Watt. Ma se io mi metto più lontano, ad esempio mi metto alla distanza della Terra dal Sole, a questo punto è evidente che la stessa potenza andrà a cadere su una superficie più grande, chiamiamo RT, il raggio dell'orbita terrestre, e questa superficie sarà 4πRt alla seconda. Quindi se tutta la potenza, P, emessa dal Sole, si distribuisce su una superficie S pari a 4πRt alla seconda, quanta ne cade su ogni metro quadro? Beh, quello che otteniamo è l'irradiamento della superficie, pensando al metro quadro disposto perpendicolarmente alla radiazione. In effetti è vero, perché il metro quadro è sempre disposto perpendicolarmente alla radiazione che giunge in modo radiale. Quindi la potenza totale diviso la superficie su cui questa potenza si va a distribuire, e quindi si diluisce, si dovrebbe dare i Watt che cadono su ogni metro quadro di atmosfera, ovviamente, perché poi l'atmosfera avrebbe un effetto di assorbimento. La potenza, l'abbiamo vista prima, era 388 per 10 alla 26, e questi sono Watt, diviso 4π, il raggio dell'orbita terrestre, abbiamo detto 150 milioni di chilometri, cioè 1,5 per 10 all'undicesima metri, 1,5 per 10 all'undicesima metri, che ovviamente va elevato al quadrato. Svolgete il calcolo con la calcolatrice, ci ritroviamo subito dopo. Il risultato del calcolo è 1373 Watt su metro quadro. In effetti questo è un valore corretto, perché la costante solare è stimata in circa 1.350 Watt a metro quadro all'esterno dell'atmosfera, circa 1.000 Watt a metro quadro a livello del suolo. Quindi con questo esercizio abbiamo visto l'importante e fondamentale differenza fra l'intensità di irraggiamento, caratteristica della sorgente, e l'irradiamento di una superficie, caratteristica del corpo investito dalla radiazione. Due grandezze, entrambe misurate in Watt a metro quadro, ma il cui significato fisico è molto diverso. Infine un chiarimento riguardo al discorso della temperatura di 3 Kelvin dello spazio esterno. Questo si riferisce al fatto che se un oggetto emette in un ambiente che possiede una certa temperatura, t con a, allora la legge di Stefan Boltzmann potrebbe essere adattata, riscritta in questo modo. La potenza totale emessa sarà data dal coefficiente di emittività, l'abbiamo visto, sigma, la costante di Stefan Boltzmann, a la superficie del corpo che emette, t alla quarta, temperatura assoluta del corpo che emette, meno temperatura dell'ambiente alla quarta. In questo modo si ritrova il bilancio energetico fra la potenza che viene emessa e quella che viene assorbita, perché, come potete leggere qua, gli oggetti assorbono radiazioni dall'ambiente che li circonda secondo la stessa legge, la legge di Stefan Boltzmann, con la quale la emette. Ora, ricordate che nella prima parte dell'esercizio avevamo qui come valore circa 5.700 Kelvin elevati alla quarta. Avrei dovuto mettere in questa posizione 3 Kelvin da elevare poi alla quarta. È evidente che una tale disparità di valore avrebbe portato a una variazione soltanto su qualche cifra significativa avanzata e dunque non era importante mantenere questo valore nel calcolo, o meglio, non era significativo dal punto di vista del risultato. Però se si dovesse realmente applicare nella sua completezza la legge di Stefan Boltzmann, bisognerebbe tener conto dell'emissione, ma anche dell'assorbimento da parte del corpo nero.